Per un impetu epilettico di dolore, omicida, protestavo come un combannato all'ergastolo, chiudendomi in camera, senza che del resto nessuno lo sapesse, a urlare con la bocca tapatta dalle coperte anerite per la bruciatura del ferro d'astiro. Le care coperte di famiglia, su cui covavo i fiori della mia gioventù. E un dopo pranzo, o una sera, urlando sono corso per le strade della domenica, dopo la partita al cimentero vecchio, là dietro la ferrovia, a compiere e a ripetere fino al sangue, lato più dolce della vita. Io solo, sopra il mucchietto di terra, di due o tre tombe di soldati italiani o tedeschi, senza nome, sulla croce di assi, sepolti, lì dal tempo dell'altra guerra. E la notte poi, tra la secchia lacrima e i corpi sanguinanti, venero in grappolo sopra il mio letto, dove dormivo, nudo e svuotato, a sporcarmi di sangue fino all'aurora. Avevo vent'anni, neanche diciotto, diciannove. Ed era già passato un secolo, da che ero vivo, un'intera vita, consumata al dolore della idea che non avrei mai potuto dare il mio amore, se non alla mia mano, all'erba dei fossi, o magari al terricio di una tomba incustodita. vent'anni e con la sua storia humana, il suo ciclo di poesia era conclusa una vita.